Un saluto da speciale, da tutti i partitori, da Bianca Nogera. Non mi ripeto con la presentazione della sigla che è stata magistrale. Però perché opera? Opera perché è la nostra casa, è il teatro dell'Opera. Noi siamo tutti i partiti dipendenti del teatro Carlo Felice e ne siamo molto orgogliosi. Per cui ogni volta che siamo in giro per spettacoli ci fregiamo di una sorta di missione, di un conto che sentiamo come missione, che è quella di essere di faccia a faccia a cuore del teatro italiano. Questo è un'attività, cosa succede? Il problema di questa sera l'abbiamo pensato come una sorta di dati immaginario di un ipotitico Cristopolo Colombo che parte dalla nostra Liguria e arriva nelle Alenche. Per cui chiaramente avete ascoltato il primo brano e avete conosciuto i temi più significativi della literatura di Paganini. Rispetto al programma che è stato stampato ci sono delle leggeri tradizioni. Per cui il prossimo brano, quello che ascolterece, è Samantha di Gherci. E per questo brano chiamerò a noi, la vostra collega e amica, Annalita Cicchi. Questo è un brano che conoscerevi tutti, Samantha di Gherci. Tra l'altro, la vostra collega e Berser Gherci. È una lina nana che il personaggio, Rara e Berser, cantano al bacino. È una semplice lina nana che rassicura il vivo prima di dormire, che dice L'estate, la vita è facile, i pesci saltano, il cotone cresce, tuo padre è ricco e tua madre è bella. Perciò taci, dormi, il cielo è sereno. Questa poi lina nana, proprio grazie a certe caratteristiche trittiche insi dell'interno, è stata eseguita in molteplici modi e quindi perché proprio si presta anche a jazz. Infatti la sentirete, la sentirete sia nella musica classica che nella musica del jazz, eseguita in mille modi. Noi la riserviamo nel modo nostro, facciamo le opere, come scritta, una semplice lina nana. e poi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501